Saranno due le iniziative organizzate dal Comune di Fano per la festa della donna, celebrata l'8 marzo. Le hanno illustrate ieri in municipio l'assessore alle pari opportunità Marina Barniesi e la capogruppo consigliare di Sinistra Unita Carla Luzzi, rappresentanza della conferenza permanente delle donne elette, di cui fanno parte tutte le componenti di maggioranza e di minoranza del Consiglio Comunale. Gli eventi organizzati in collaborazione con Sonia Battistini, coordinatrice dell'ambito territoriale e sociale 6, rientrano nel cartellone Dialogo tra le donne del nostro tempo, che ha preso il via lo scorso novembre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Il primo appuntamento è previsto per domani alle 17.30 nella Sala della Concordia del Comune. L'incontro intitolato Donne in sicurezza, la lotta al crimine parte da noi stesse, vedrà la partecipazione della dirigente della divisione anticrimine della questura di Pesero e Urbino, Natalina Baiocchi. Inoltre l'avvocato Francesca Santorelli del Centro Antiviolenza Provinciale parla con noi e saranno presenti le psicologhe Gloria Battistelli e Valeria Tinti, rispettivamente dell'Associazione Cante di Montevecchio e AMA di Ancona. Roberta Biaggiarelli e Frida Neri invece daranno il loro contributo letterario e artistico con intermezzi musicali. Un tentativo proprio di capire meglio che cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita delle donne nella nostra città e questo significa occuparsi anche di quelli che sono i servizi rivolti alle donne, ma rivolti soprattutto alle famiglie, rivolti ai figli, cercando di capire anche quali sono i servizi per la salute e anche la sicurezza delle donne, perché sicuramente è molto importante per muoversi e fare delle attività anche per il tempo libero, uscire la sera, che la città sia una città sicura. Domenica 8 marzo invece la cittadinanza è invitata a partecipare a Noi Pedaliamo Come Ci Pare sulle strade delle donne per dire basta alla violenza di genere. L'appuntamento sarà alle 9.30 nel cortile del comune, dove si partirà per una biciclettata. Verranno attraversate diverse vie della città, fino ad arrivare alle più significative, come quella dedicata alla partigiana Le Dantinori e alla via intestata dalla precedente amministrazione a Norma Cossetto, vittima della violenza delle foibe. La meta finale invece sarà il parco dell'aeroporto, dove verrà consegnato riconoscimento alla presidente del comitato Bartolaggi, Anna Tonelli, una donna che per anni si è impegnata per rivendicare un parco a favore di tutta la città. Ci sarà anche un momento conviviale, perché le donne che verranno con noi alla pedalata sulla strada delle donne potranno portare con sé qualcosa da mangiare e poi da codividere insieme. Al parco ci saranno pronti dei tavoli con delle tovaglie, con delle bibite, con dei fiori per accogliere tutte queste donne, ma io dico anche tutti questi uomini che vorranno venire con noi a conoscere la storia delle donne, a iniziare a conoscere la storia delle donne. Alla Memo, al pomeriggio, ci saranno come sempre le letture di Nati per Leggere, a cura delle lettrici e dei lettori volontari e per l'8 marzo le letture saranno dedicate alle storie piccine per bambini e per bambini, però saranno storie soprattutto contro gli stereotipi di genere.